La via del sale è un'antica strada militare situata a cavallo delle regioni Piemonte, Liguria e Costa Azzurra in Francia, costruita sugli antichi sentieri utilizzati dai contrabbandieri di sale fin dal medioevo. La via si snoda in alta quota con punte ben oltre i 2000 metri in un paesaggio alpino maestoso e spettacolare. Lungo il percorso si incontrano i segni della storia e delle battaglie che hanno avuto luogo in questa zona di confini. Percorriamo la via del sale ogni anno dal 2004. La natura selvaggia dei luoghi, unita al senso di libertà del fuoristrada, ci spingono a tornare ogni anno. Siamo solo noi, la moto e l'avventura, niente cellulari, niente mogli o fidanzate, niente altro che enduro. Quest'anno l'evento si terrà a metà settembre. Arrivo dei partecipanti in hotel previsto il venerdì sera. Partenza e arrivo del giro a Limone Piemonte, percorso di circa 140 km sia il sabato in un senso che la domenica nel senso opposto. Moto leggera per divertirsi e alloggi in hotel per riposarsi. Per l'edizione di quest'anno aspettiamo anche te.